Stiamo lavorando per verificare la possibilità che le organizzazioni sindacali vengano coinvolte nella costruzione e nell'implementazione degli obiettivi della macro regione adriatico ionica. Non è un'operazione semplice perché la normativa comunitaria non prevede automaticamente la partecipazione dei sindacati a questo tipo di accordi tra paesi e tra regioni, ma noi confidiamo che attraverso una serie di contatti istituzionali che stiamo cercando di tenere su due livelli, quello europeo e quello nazionale, si possa riuscire a costituire una consulta permanente delle organizzazioni sindacali all'interno del quadro istituzionale della macro regione. L'obiettivo di questa consulta permanente è ovviamente innanzitutto quello di aggiungere alle priorità che sono già state definite, ci sono quattro assi tematici e poi due priorità trasversali, una terza priorità trasversale che è quella della coesione sociale, attraverso la quale noi miriamo ovviamente a garantire i diritti dei lavoratori all'interno dello spazio dell'euro regione e limitare fenomeni di concorrenza sleale, di dumping che si possono verificare nel momento in cui si confrontano economie, società e mercati del lavoro tra di loro molto diversi, come possono essere quelli di quattro paesi dell'Unione Europea da un lato e quattro paesi che invece non fanno parte dell'Unione Europea. Per riuscire a realizzare queste cose, questi obiettivi noi presenteremo congiuntamente come organizzazioni sindacali e come gruppo dei lavoratori al Comitato Economico e Sociale Europeo un documento alla Commissione Europea e CGL e CISLEWIL viceversa presenteranno al Ministero degli Affari Esteri un documento analogo per cercare di costruire un'operazione a tenaglia che ci porti a raggiungere questi obiettivi. Noi speriamo di riuscire a fare queste cose nell'arco di pochi mesi, anche perché il processo istituzionale di riconoscimento della macro regione è ormai quasi completato e quindi dobbiamo sbrigarci per diventare anche noi come organizzazioni sindacali un soggetto protagonista di questo processo a tutela dei lavoratori e dei cittadini di quest'area geografica.